Cosa avete capito finora di questo sviluppo sostenibile? È, come qualcuno ha detto oggi in un evento in cui ero, un'ambizione bellissima, ma fondamentalmente priva di un contenuto concreto? Oppure è invece un qualcosa necessario? È qualcosa di realizzabile? O è qualcosa di talmente difficile che non riusciremo a realizzare? Che impressione vi siete fatti? Forza. Proviamo a... Secondo me è un po' una nozzunità, nel senso, un work in progress, perché, a mio parere, le politiche sono sviluppo sostenibile, il fatto che debbano essere integrate magari all'economia e a tutti, diciamo, tutte le scienze sociali o scientifiche, sta avvenendo fatto, anche se in ritardo, rispetto a, diciamo, l'ottimo, diciamo... In cui 40 anni fa avremmo dovuto pensarci. Avremmo dovuto pensarci prima. Ma secondo te siamo ancora in tempo? Mi auguro di sì. Qualcun altro? Che idea vi siete fatti? Prego. Io penso di sì, però solo se realmente... Pensi di sì cosa? Che possano essere, diciamo, portate avanti... Speriamo che... Solo se, insieme a una collaborazione tra paesi che è fondamentale, ci sia proprio una... Un'unione tra le diverse, come diceva lui, tra le diverse scienze, per esempio anche l'architettura o la medicina, se realmente tutte, non solo l'economia, chiaramente la scienza, insomma, tutte... Tutti realmente i mestieri, le professioni, se si uniscono, diciamo, come ideologia, potremmo dire, seguendo questa linea, allora secondo me sì, si potrà... Se ci lavorano solo gli scienziati o solo gli economisti o solo un'altra categoria, allora... Qual è secondo voi la cosa più difficile in assoluto, tra tutte le cose di cui avete sentito parlare, la cosa più difficile per cui, se voi aveste una bacchetta magica, ecco, quella sarebbe la cosa che farei? Un cambio di mentalità. Penso che se si continua a perseguire come obiettivo finale solo il guadagno e questi obiettivi di sviluppo sostenibile passano in secondo piano, e molti non sono facili da durare, che erano il tempo e gli investimenti per farli. Se chi gestisce un'azienda, chi governa un paese, preferisce puntare al duro, diciamo, al guadagno e basta, senza dare conto a tutto il gruppo sostenibile, si finisce che... Voce che così sentono anche gli altri. Si finisce che non... non si va avanti per tutto il gruppo, perché la mentalità è una regolità di, diciamo, un capitalista pure. Qualche altro elemento cruciale che voi cambiereste, se poteste, da cui poi potrebbero nascere tanti effetti positivi? L'istituzione, ovviamente, perché è necessaria una presa di coscienza da parte di tutti di queste problematiche, e il problema è che adesso, se siete venuti a conoscenza, al secondo anno di università, che non dovrebbe essere invece inculcato già dalle scuole medie superiori, quindi per una sensibilità, ma è più nell'ambito dell'istituzione, già da conto dei sei più giovani per far sì che tutti abbiano coscienza di queste problematiche che possano perseguire questi obiettivi. Quanti di voi hanno fratelli e sorelle più piccole? Che sono ancora a scuola? L'altro giorno abbiamo lanciato la seconda edizione del concorso per tutte le scuole sullo sviluppo sostenibile. Quindi ognuno di voi può convincere i vostri fratelli, le vostre sorelle, se sono ancora a scuola, di partecipare. Magari potreste voi stessi, non so se l'avete già fatto, attraverso Facebook, attraverso Twitter, se qualcuno di voi ha un account Twitter, condividere quello che state imparando, quello che avete imparato qui, e dire ai vostri amici guarda che serve un cambio di mentalità radicale, serve un approccio diverso, serve prendere coscienza di una serie di questioni. Qualcuno di voi l'ha fatto fino adesso? Sì? Sì. E che reazione hai avuto? Sei scemo, ma di che parli? Eh, boh, sono stato un po' preso come una cassandra, diciamo. Cioè che, magari dico delle cose giuste, però non vengo considerato, magari, o comunque… portassi anche un po' Iella. Qualcun altro ci ha provato? Ci avevate pensato a poter fare una cosa del genere? Cioè, se voi prendete coscienza di qualcosa, e di qualcosa che credete importante, e forse spetta a voi trasmettere quello che avete imparato. Magari non necessariamente sulla fine del mondo che arriva tra qualche settimana, ma per esempio sul tema delle disuguaglianze. Forse non tutti sanno dei vostri amici che appunto 68 persone nel mondo hanno metà della ricchezza del mondo. 68. Prima erano 300, bisognava metterle insieme qualche anno fa. Adesso sono meno di 100, hanno la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione. E questo è solo un altro dato interessante. Insomma, il tema che avete sollevato rispetto al cambiamento di mentalità, il fatto che queste cose bisognerebbe impararle da piccoli, bisognerebbe capire fin dal principio, magari del proprio ciclo universitario, che c'è un altro modo di vedere le cose. Questa è la grande difficoltà, ed è il fatto che appunto per 40 anni chi parlava di questi temi è stato considerato un po' iettatore, è un po' esagerato. Nei giorni scorsi, per la prima volta nella storia dell'umanità, 15.000 scienziati hanno sottoscritto un appello ai grandi della Terra, dicendo, vi ricordate il buco dell'ozono? Il fatto che appunto i gas utilizzati nelle attività terrestre avevano distrutto lo spazio di ozono che protegge la nostra atmosfera, protegge la vita. Bene, sappiate che grazie agli interventi che voi avete preso negli anni, effettivamente il buco dell'ozono si è ristretto ed è quasi chiuso. Quindi si può fare. Dalle bombolette spray sono stati eliminati tutta una serie di prodotti che generavano appunto il buco dell'ozono. Bene, sappiate, cari grandi della Terra, che appunto tutti gli indicatori ci dicono che stiamo andando a schiantarci. E quindi perché non facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto col buco dell'ozono? Perché si è fatto. Quindi un invito al coraggio di chi può prendere decisioni. Ma al di là di questi appelli all'attenzione, alla bontà, alla lungimiranza, alla sapienza, alla politica, ma anche agli imprenditori e così via, supponiamo anche di avere qualcuno che si è convinto di voler fare tutto questo. Ma come si fa in pratica? Come si può immaginare di farlo? A livello di singole imprese c'è un cambiamento, lo avete sentito da Giulio Roiacono, nel modo con cui si rendi conta, con cui si decide se una certa politica è conveniente o non è conveniente. E queste cose avvengono ormai in tante imprese, in nome della responsabilità sociale di impresa o, come avete visto, appunto in termini di strategia di sostenibilità, che richiede un impulso forte a tutta l'impresa a essere attenti ai comportamenti non solo ambientali, ma anche quelli economici, ma anche quelli sociali. Ma se invece vogliamo passare al fronte della politica, per venire ai vostri discorsi, cosa si potrebbe o si dovrebbe fare? La lezione di oggi, che appunto è la lezione conclusiva, cercherà di illustrarvi un po' questi aspetti, prendendo come riferimento il rapporto ASVIS, che è l'unico esempio italiano, ma in realtà non solo italiano, di un tentativo di pensare in modo integrato. Ed è per questo che nella mia presentazione userò le slide che ho utilizzato a settembre nella presentazione del rapporto e poi vi farò vedere più in dettaglio una serie di slide relative alle simulazioni di politica, delle politiche, per capire l'effetto che queste politiche possono avere sull'evoluzione dell'Italia e non solo. Quello che è evidente in giro per il mondo, e credo che queste lezioni ve l'abbiano illustrato, è che effettivamente c'è un movimento che sta cominciando a prendere molto seriamente i temi di cui abbiamo parlato. Anche tra i paesi, ci sono dei paesi che stanno provando a cambiare rotta, altri naturalmente no. Avete visto quando Trump ha annunciato l'intenzione di uscire dagli accordi di Parigi, che pure fanno parte del primo passo dell'attuazione dell'Agenda 2030, che sta cominciando a prendere dei pezzi di Stati Uniti, certe città, certe regioni hanno detto no, noi vogliamo andare avanti comunque perché le energie fossili non sono più convenienti, non è quello il futuro e noi vogliamo andare nel futuro. Città, stati hanno annunciato unilateralmente di voler attuare delle politiche in grado di conseguire l'obiettivo atteso. L'obiettivo cioè di tenere? Qual è l'obiettivo di Parigi? Tenere l'aumento della temperatura sotto due gradi, meglio uno e mezzo. Meglio uno e mezzo, ma tenere l'aumento della temperatura sotto due gradi. In queste settimane c'è stata la COP23. L'evento di Parigi era la COP21, la conferenza delle parti. E in questi giorni a Bonn, avete forse visto, c'è stata la COP23. L'impressione è che nonostante gli sforzi non ce la faremo. bisogna comunque fargli questi sforzi, ma è probabile che non riusciremo a tenere la temperatura sotto i due gradi. Perché per riuscirci, secondo i calcoli scientifici, noi dovremmo abbattere le emissioni di CO2, di anidride carbonica, di un fattore così grande che ragionevolmente vorrebbe dire bloccare tante attività economiche. Se mettiamo via il cellulare mi fate un favore, grazie. Bloccare tante attività economiche e quindi invece di sbattere sul soffitto, per usare le parole di Kate Roworth sull'economia della ciambella, sbatteremmo sul pavimento. Cioè avremmo una non sostenibilità sociale. Le imprese, come ho detto, si sono impegnate. Avete visto i dati e gli strumenti che il mondo delle imprese si sta dando. La società civile sta trovando una nuova forma di collaborazione. Perché nella società civile, appunto, WWF, Legambiente, Italia Nostra, si sono tipicamente concentrati su certi temi. Action Aid, Save the Children e altri su altri temi, eccetera, eccetera. Gli SDGs stanno cominciando a diventare una lingua franca, un terreno comune, un linguaggio comune. Ieri, parlando con la responsabile di un'importante rete del terzo settore italiano, che ha lanciato un'analisi, un questionario all'interno dei propri associati su ridisegnare, anzi rideclinare, tutte le attività che questi associati già fanno, parliamo di migliaia di soggetti, usando gli SDGs. Il risultato inatteso per lei era che facendo questo le associazioni hanno trovato una risposta al senso per il quale fanno quello che fanno. Cioè hanno trovato uno schema concettuale condiviso che aiuta a collocare quello che uno fa, ma anche a capire le interazioni tra i diversi aspetti. L'Unione Europea si sta muovendo, lento pede. A novembre del 2016 ci sono state tre comunicazioni della Commissione. La prima Commissione ha riguardato una sorta di mappa di tutte le attività svolte dalla Commissione attraverso le diverse politiche rispetto agli SDGs. E quindi in qualche modo una sorta di check-up di quello che l'Unione già fa per realizzare i Sustainable Development Goals. È stato un documento un po' auto-assolutorio, cioè come dire già facciamo un sacco di cose e quindi sì, faremo di più, faremo meglio, però guardate che noi già facciamo un sacco di cose ed è assolutamente vero. L'Europa, come vi ho detto fin dalla prima volta, è stata la campionessa di sviluppo sostenibile nel mondo. Ma adesso, e poi ha scelto l'Europa, di usare i Sustainable Development Goals come la chiave di orientamento di tutti i fondi alla cooperazione. Parliamo di decine di miliardi di euro. Quindi una scelta che ha incorporato gli SDGs nella sua dimensione esterna. Caro Paese, vuoi i miei soldi? Beh, mi devi dire che cosa conti di fare rispetto ai diversi SDGs. Ma quando poi si è trattato di dover applicare questa logica a se stessa e allora ha cominciato a traballare. Sapete cosa è il white paper della Commissione Europea, pubblicato all'inizio di quest'anno? Qualcuno l'ha sentito parlare? Quest'anno c'è stato a marzo il sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma, a Roma. e la Commissione ha scritto un documento immaginando quale futuro può aspettare l'Unione e ha messo sul campo cinque differenti scenari. Il primo è quello di un ripiegamento totale proprio all'attività minima. Dall'altro estremo il quinto scenario è invece una prosecuzione dell'integrazione europea verso una confederazione. Ma insieme ad altre persone in giro per l'Europa abbiamo fatto un po' di lobby, abbiamo fatto un po' di movimenti e il Parlamento e il Consiglio europeo addirittura il Consiglio europeo ha detto alla Commissione devi essere più ambiziosa, devi entro giugno dell'anno prossimo, cioè 2018, incorporare all'interno delle tue politiche gli SDGs. E il 2018 sarà un momento chiave, nel 2019 noi andremo a votare per il Parlamento europeo e quindi una nuova Commissione. Nel 2018 le istituzioni europee devono discutere le prospettive finanziarie del futuro, colpite duramente dall'uscita del Regno Unito, tra l'altro dall'Unione, ma anche gli investimenti futuri, il cosiddetto Piano Juncker 2 che dovrebbe mobilitare 500 miliardi di euro nei prossimi anni. e quando qualche settimana fa è stato raggiunto l'accordo tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, nel comunicato stampa c'era un'evidenziazione il 40% degli investimenti del Piano Juncker andranno allo sviluppo sostenibile. Ok? Adesso per favore alza la mano chi pensa che questo sia un ottimo risultato. 40% degli investimenti allo sviluppo sostenibile. Tu alzi la mano, chi altro? Tutti timorosi. Prendete posizione. È un buon risultato? Chi pensa che invece sia un cattivo risultato? Il 60% quindi va allo sviluppo insostenibile? Naturalmente perché hanno presentato il 40% come un grande risultato. Perché hanno in testa lo sviluppo sostenibile come una questione ambientale, climatica, energetica. e non con la visione integrata di cui stiamo parlando. Benché la Commissione a settembre del 2015 abbia firmato l'Agenda 2030 così come tutti gli altri paesi. al punto tale che appunto con circa 200 associazioni in giro per l'Europa abbiamo creato noi il sesto scenario. E cioè abbiamo detto i cinque scenari della Commissione non bastano, non sono sufficienti. Serve un sesto scenario. uno scenario che metta gli SDGs al centro della politica futura dell'Unione. E magari, io lo vado ripetendo da un annetto nelle varie conferenze europee, dovremmo fare una riflessione sul fatto se la distribuzione dei compiti tra Unione e Paesi fatta quando non avevamo idea della crisi che ci stava arrivando addosso. Non avevamo idea in questo modo complessivamente dello sviluppo sostenibile anche se il trattato attuale è stato scritto nel 2009 quindi non è che stiamo parlando di decenni e decenni fa. Bene, in questa logica forse, forse, la distribuzione dei compiti tra Unione e Paesi è sbagliata. Sapete chi ha il compito della politica energetica? Sapete chi deve occuparsi della salute? Sapete chi deve occuparsi della salute? Sapete chi deve occuparsi della educazione? Se non lo sapete andate a vedere le competenze dell'Unione Europea perché talvolta uno se la prende con l'Unione quando invece non riguarda non è colpa dell'Unione ma è colpa dei Paesi quelle all'inizio sono le competenze esclusive dell'Unione che ha delle competenze sull'Unione doganale la concorrenza la politica monetaria la politica della pesca la politica commerciale la conclusione di accordi internazionali eccetera e poi ci sono le competenze concorrenti quelle cioè in cui in parte spetta l'Unione e in parte ai Paesi ma poi guardate le competenze esclusive dei Paesi salute industria cultura turismo formazione protezione civile cooperazione amministrativa quindi come vedete le molte delle condizioni sociali sono in realtà di competenza dei Paesi e se andate a vedere le competenze concorrenti questa colonna cioè in cui i Paesi e l'Unione devono trovare un accordo su chi fa che cosa mercato interno politiche sociali coesione economica sociale territoriale agricoltura e pesca ambiente trasporti energia libertà salute pubblica ricerca cioè elementi fondamentali per assicurare la sostenibilità e quindi noi dovremmo forse domandarci se per il mondo che ci aspetta la divisione dei compiti tra Unione e Paesi è quella ottimale o se invece non dovremmo rivedere qualcosa se voi andate a guardare come è fatta come sono fatte le pipeline dell'energia in Europa sembra una sorta di connessione a cui qualcuno ogni tanto è arrivato lì e ha spezzato le connessioni cioè vedete che ci sono oleodotti o gasdotti che fanno questo pezzetto poi si interrompono poi c'è un altro pezzo che fa così e poi un altro pezzo che fa così perché? perché l'energia non è stata finora considerata in modo sistemico ma ogni Paese si è organizzato come a meglio preferito e così via quindi tornando alla questione europea ci dovremmo domandare se la divisione dei compiti che abbiamo è ottimale o se invece non dovremmo pensare diversamente l'Italia 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 ha fatto almeno in teoria alcuni passi avanti di carattere sistemico la strategia nazionale di sviluppo sostenibile è stata preparata ed è stata poi approvata dal Consiglio dei Ministri forse avete letto sui giornali nei giorni scorsi gli indicatori di benessere eco e sostenibile sono stati introdotti per legge nel documento di economia e finanza nella programmazione economica e finanziaria qualcuno ha letto qualcosa al riguardo? nei giorni scorsi? sì? no? nel 2009 quando io rientrai da Parigi a fare il presidente dell'Istat lanciai questa idea di misurare appunto il benessere del nostro paese attraverso una serie di indicatori seguendo gli standard che avevamo definito a livello internazionale all'Ox eccetera ma l'idea era che poi questi indicatori venissero usati nel dibattito politico quindi cominciamo dopo una lunga consultazione con la società civile con gli esperti a pubblicare un rapporto che contempla circa 160 indicatori lo trovate sul sito dell'Istat sotto la dizione BES benessere equo e sostenibile e poi iniziamo la pressione sul governo per far sì che il governo utilizzasse una parte almeno di questi indicatori nella programmazione economico finanziaria e nei giorni scorsi è andato in gazzetta ufficiale il decreto che identifica come commissione l'abbiamo fatto nei mesi scorsi 12 indicatori che da adesso in poi ogni volta che il governo pubblica il documento di economia e finanza ad aprile di ogni anno che prevede il triennio successivo deve indicare quali sono le loro previsioni a legislazione vigente e con le politiche proposte su indicatori come il reddito disponibile delle famiglie non solo il PIL quindi ma quello che resta dopo aver pagato le tasse l'indicatore l'indicatore di povertà l'indicatore di differenza di reddito tra i più ricchi e i più poveri il tasso di obesità la speranza di vita un indice dei furti dei crimini predatori quelli che colpiscono di più le persone l'emissione di CO2 e così via cioè indicatori che da adesso in poi potranno essere messi a disposizione di tutti quando si fanno le politiche noi stiamo per andare alle elezioni come paese c'è qualcuno che per esempio propone una flat tax cioè di mettere una tassa uguale sia per i ricchi che per i poveri e questa una misura giusta o sbagliata dipende dipende da qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere certamente è una scelta che peggiorerà la distribuzione dei redditi è importante che il paese sappia che magari secondo una serie di modelli quella politica aumenterà il tasso di crescita del PIL ma renderà più ampia la distanza tra ricchi e poveri un esempio per tutti quindi adesso l'Italia primo paese G7 e paese Oxe ha inserito questi indicatori nella propria programmazione il ministero dell'ambiente ha fatto una ricognizione insieme al ministero dell'economia e delle finanze su quanto ogni anno nel bilancio nel bilancio dello Stato pesano i contributi cosiddetti alle imprese o alle persone che sono dannosi o favorevoli all'ambiente vi ho già detto la cifra? no? me l'ho detto nelle precedenti elezioni quanti sono secondo voi i soldi che ogni anno il governo o altri soggetti statali passano all'Italia agli italiani alle imprese ma così facendo danneggiano l'ambiente? un miliardo? un miliardo? due miliardo? quanti sono? quanti possono essere secondo voi? tanti? pochi? hai sentito parlare? sì? no? secondo te? la spesa pubblica sono 800 milioni scusate 800 miliardi molti sono interessi e così via quanto può essere secondo voi che lo Stato spende ogni anno per sussidi che danneggiano l'ambiente? 16 miliardi all'anno ci hai indovinato? 15 sono le spese a favore dell'ambiente quindi noi spendiamo 16 miliardi all'anno per attività che danneggiano l'ambiente e 15 miliardi per attività che favoriscono l'ambiente dovremmo andare da uno psichiatra qualcuno direbbe siete schizofrenici questa ricognizione è stata fatta sapete nella legge di bilancio e la legge tra l'altro dice che gradualmente questi 16 miliardi devono essere smantellati e dati a favore invece dell'ambiente sapete nella legge di bilancio le proposte formulate quanti di questi 16 miliardi smantellano? questa è in discussione in Parlamento? zero 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 perché è una decisione che scontenterebbe tanta gente uno dei sussidi più importanti è quello che riguarda il trasporto merci e ogni volta che si è cercato di ridurre le agevolazioni che i camionisti hanno nel fare gasolio come si dice si bloccano le città perché i tir arrivano e bloccano le città quelli sono un sacco di miliardi che potrebbero essere impiegati magari per investire sul trasporto su gomma scusate sul trasporto su ferro quindi sui treni sul trasporto delle merci in modo più sostenibile è stato fatto poi il rapporto sul capitale naturale questo è un articolo di legge che inserimmo nella proposta di legge appunto durante il periodo in cui ero ministro adesso c'è un comitato per misurare il capitale naturale in Italia e ogni volta dice la legge che si fa una nuova legge bisognerebbe a questo punto andare a vedere l'impatto di una nuova legge sul capitale naturale questa cosa ancora non è operativa stiamo ragionando su come eventualmente fare questo sforzo comunque sia come vedete sono dei passi utili ma la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è molto generica non ha ancora precisi atti che la stanno realizzando gli indicatori BEST nel DEF come ho detto sono importanti ma bisognerà vedere come il futuro governo utilizzerà queste informazioni il rapporto sui sussidi appunto va tradotto in pratica anche il rapporto sul capitale naturale è abbastanza sconosciuto non è ancora entrato nel dibattito nella strategia di sviluppo sostenibile adottata dal governo sul piano della governance hanno preso molte delle proposte che l'ASVIS aveva fatto l'anno scorso e durante quest'anno in primo luogo ci sarà un monitoraggio annuale dell'attuazione della strategia secondo è la presidenza del consiglio che diventa responsabile della strategia non più il ministro dell'ambiente questo è un passaggio molto importante perché avete visto che lo sviluppo sostenibile riguarda le politiche dell'educazione della salute gli investimenti eccetera può il ministro dell'ambiente coordinare tutte queste attività naturalmente no lo può fare soltanto il presidente del consiglio che ha il compito di coordinare tutte le politiche il presidente del consiglio avrebbe dovuto attuare questa scelta emanando una direttiva a tutti i ministri su come incorporare l'agenda 2030 nei loro obiettivi questo non è avvenuto stiamo proponendo c'è un emendamento in discussione al senato sulla legge di bilancio di rinominare il Cipe il comitato interministeriale per la programmazione economica per renderlo il comitato ministeriale per lo sviluppo sostenibile perché beh per evitare il problema del piano Juncker perché tutti gli investimenti pubblici devono in qualche modo essere scelti pensando alla sostenibilità dello sviluppo non solo quelli in energia o ambiente bisogna coinvolgere le regioni gli enti locali in questa strategia perché molte delle delle politiche che riguardano per esempio la salute sono di competenza delle regioni non dello Stato ci sono molte debolezze come dicevo è generica è poco coordinata con altre strategie rinvia ad un piano d'azione che dovrebbe essere più dettagliato essere pubblicato entro dicembre ma dubito che verrà fatto mancano i riferimenti ai target previsti per il 2020 perché voi avete visto i goal ma ci sono poi 169 target e alcuni di questi sono previsti al 2020 non al 2030 per esempio la riduzione drastica del numero di giovani net che non studiano e non lavorano che oggi sono più di 2 milioni il dimezzamento degli incidenti stradali sapete quanto costano gli incidenti stradali ogni anno in termini di spese sanitarie di costi sociali 17 miliardi all'anno pensate se noi saltassimo e fosse vero quello che i produttori di auto che si guidano da sola ci dicono saltassimo sull'auto che si guida da sola che vuol dire sostanzialmente azzerare o quasi 95% degli incidenti non ci sarebbero più perché sono gli uomini che fanno gli incidenti raramente le macchine l'altro giorno eravamo un dibattito sui costi sanitari l'invecchiamento della popolazione date le cure che oggi vengono date alle persone anziane ci costerà nei prossimi anni 10 miliardi in più all'anno dove troveremo questi soldi beh forse facendo questo salto tecnologico ritroveremo i soldi perché appunto non spenderemo più 17 miliardi all'anno di costi legati agli incidenti vedete le connessioni? Mancano quindi questi riferimenti ai target per il 2020 è stata poi varata ufficialmente il 2 ottobre dal Consiglio dei Ministri e manca appunto l'impegno prego beh se per domani mattina con la bacchetta magica che vi ho dato un attimo fa ma che soltanto due di voi hanno usato saltassimo alle auto che si guidano da sole e avessero ragioni quelli che ce le stanno vendendo questo vorrebbe dire che il numero di incidenti stradali si ridurrebbe del 95% no le auto che si guidano da soli da sole nei giorni scorsi Uber ha ordinato le prime 200 non mi ricordo esattamente auto che si guidano da sole per sperimentarle in non mi ricordo in quale città quindi è importante conoscerlo per capire insomma se bisogna stare attenti o meno prego da chi? da chi? beh ci sono la Tesla se non sbaglio ma non solo ci sono negli Stati Uniti negli Stati Uniti nei giorni scorsi ha cominciato hanno cominciato ad andare in giro i primi tir che si guidano da soli non a caso i guidatori di tir hanno votato in massa per Donald Trump preoccupatissimi di perdere il loro lavoro non solo i minatori delle delle miniere di carbone hanno votato a favore di Trump quindi in estrema sintesi oggi anche per il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi due anni l'Italia ha una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ma da completare e dettagliare stiamo lavorando intensamente con il MIUR con le università per fare dell'educazione e lo sviluppo sostenibile una parte fondamentale della formazione delle nuove generazioni ogni anno organizziamo un festival abbiamo lanciato il festival 2018 l'altro ieri anzi ieri un impegno senza precedenti del mondo delle imprese della finanza di cui vi abbiamo raccontato qualcosa durante queste elezioni e i sindaci delle città metropolitane che a giugno dell'anno scorso hanno firmato la carta di Bologna per le per l'attuazione di tutta una serie di iniziative nelle città metropolitane quante sono le città metropolitane? quante? 13? quasi Milano ha appena annunciato in un evento internazionale che dal 2030 metterà al bando le auto a combustione interna e le altre città italiane? beh in Francia l'ha annunciato lo Stato non una città stessa cosa in Norvegia Norvegia in questo momento il 30% delle nuove auto sono elettriche e stanno andando in crisi perché non hanno costruito abbastanza centraline per il rifornimento elettrico qualcuno di voi conosce quel mezzo elettrico a due a due posti come? no si chiama in realtà non è una macchina è un motorino è un motorino una macchinetta diciamo così che va a elettricità e la batteria è grande quanto una valigetta per cui uno scende lo ricarica mentre al lavoro poi risale la sera e torna a casa perché in realtà oggi già sappiamo che per le mobilità urbane da due persone la soluzione già esiste e gran parte del traffico veicolare nelle città è di due persone al massimo quindi in realtà volendo il salto già si potrebbe fare ma servono politiche orientate la nuova strategia energetica nazionale approvata nei giorni scorsi dal governo forse l'avete sentito ma voi leggete i giornali ragazzi? chi è che legge i giornali regolarmente? regolarmente no i ragazzi il lunedì lo sappiamo mica solo i ragazzi leggete leggete poco eh? navigate sui siti dei giornali? sì? e cosa leggete? se leggete della strategia energetica nazionale passate ad altro immagino ma questo è il vostro futuro è il nostro futuro anzi è il nostro presente la strategia energetica nazionale approvata dal governo non scioglie il nodo se vogliamo andare verso l'auto elettrica o verso l'auto a metano l'auto elettrica è una soluzione di tanti problemi ma ne crea anche degli altri bisogna produrla comunque l'energia elettrica per le ricariche tant'è vero che l'amministratore delegato della Fiat continua a insistere che serve invece l'auto a metano anche perché la Fiat non ha mai creduto all'energia elettrica alle auto elettriche e quindi non ci ha proprio investito io non so qual è la soluzione ottimale so che o costruiamo le centrali le pompe a metano o costruiamo le centraline elettriche non è proprio un problema che possiamo lasciare alla libera iniziativa di non si sa chi il governo deve fare una scelta giusto o sbagliata che sia e a quel punto dire a Enel per esempio bene tu che hai deciso autonomamente di mettere adesso nelle città 3000 centraline per la ricarica delle auto stai facendo una sciocchezza perché noi puntiamo se invece dice no stai facendo bene le devi montare altre qualcuno ci deve dire dove le compriamo queste auto elettriche compreremo tutti le tesla recentemente la commissione europea ha chiamato i grandi produttori di componenti di batterie elettriche dicendogli ma vi rendete conto che non c'è nessun grande produttore di batterie elettriche in Europa la Cina sta investendo da dieci anni su questi temi in Italia in Europa manca un colosso della produzione di batterie di energia elettrica di batterie elettriche per le macchine e ha detto dobbiamo fare come abbiamo fatto per l'Airbus che abbiamo un jet competitivo in tutto il mondo dobbiamo farlo per le batterie delle auto elettriche secondo alcuni calcoli il passaggio violento all'auto elettrica comporterebbe la perdita di 900.000 posti di lavoro in Italia semplicemente perché noi non abbiamo ancora capito se quello è il futuro e quindi non ci abbiamo investito con chi ce la prenderemo se scoprissimo che il mondo sta andando in quella direzione e noi abbiamo bucato una delle più grandi rivoluzioni di prodotti della storia dell'umanità ce la prenderemo con Marchionne ce la prenderemo con il governo che si troverà questa patata bollente quando sarà il momento o con il governo che supponiamo in questo momento non ha scelto in quale futuro dobbiamo andare vedi la concretezza possiamo discutere quanto vi pare in teoria ma poi bisogna fare delle scelte e le scelte sull'energia sul cambiamento climatico sono fondamentali bene oggi abbiamo appunto una strategia energetica nazionale approvata alla fine di una legislatura vedremo se la nuova legislatura adotterà applicherà quello che è stato appena deciso ci mancano un paio di pezzetti marginali la strategia per l'economia circolare che è stata discussa ma non è ancora stata approvata e i piani il piano nazionale per la lotta e l'adattamento scusate al cambiamento climatico allora voi capite che degli investitori che dovrebbero investire in un paese investirebbero in un paese che non ha una strategia energetica non ha una strategia di economia circolare e non ha un piano di adattamento ai cambiamenti climatici? in un recente studio della banca d'italia anzi due studi che stanno per uscire si vede che le banche italiane già prestano soldi a condizioni molto diverse a seconda che le imprese che devono ricevere i soldi stiano in una zona a rischio sismico o no le compagnie di assicurazione in giro per il mondo non assicurano più contro certi rischi climatici perché diventeranno la norma come avete scoperto nelle presentazioni che avete avuto e dunque che facciamo? Lasciamo che ognuno si organizzi per sé? queste sono le grandi domande della politica come vi ho detto fin dalla prima volta l'italia non è in una condizione di sviluppo sostenibile non lo dico io non lo dice l'ASVIS lo dice addirittura il governo che ha fatto un'analisi molto dettagliata rispetto ai 169 target e quindi dovremmo darci da fare per cambiare questa è una misura diciamo sintetica più noi siamo vicini al centro più siamo distanti dagli obiettivi questa è una misura sintetica basata sulla valutazione del governo rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile non stiamo messi molto bene come vedete ma sono sicuro che nella prossima campagna elettorale si parlerà intensamente di come assicurare uno sviluppo sostenibile al nostro paese anzi già adesso i temi che emergono dalla campagna elettorale sono assolutamente centrati su questi aspetti o no? no no sono centrati sulla discussione e saranno ancora più centrati se bisogna abbassare il bollo auto anzi eliminarlo oppure se bisogna dare un po' più di incentivi alle imprese per assumere i giovani oppure per cioè meccanismi che sono figli del vecchio modello di sviluppo io metto un po' più di soldi in tasca la gente l'economia ripartirà e andremo tutti alla grande io veramente sono esterefatto del fatto che questi siano i messaggi che già si capisce saranno al centro della campagna elettorale e i media che dibattono su questi su queste possibili soluzioni senza chiedere sì ma per energia che pensare di fare per il cambiamento climatico per il futuro dell'automazione che pensate di fare nel rapporto utilizziamo una serie di indicatori statistici quelli selezionati dall'ONU e pubblicati dall'ISTAT ma sono 150 difficile riuscire a capire come stiamo messi rispetto a 150 indicatori per questo li abbiamo compattati condensati in alcuni indicatori compositi che ci aiutano a capire i trend attuali vedete il primo a sinistra in alto riguarda il goal 1 quello sulla povertà e si vede chiaramente che la crisi ha colpito molto duramente non è solo il tasso di povertà sono vari indicatori relativi relativi alla povertà guardate invece questo questo è sull'educazione negli ultimi anni abbiamo migliorato indubbiamente peccato che siamo oggi dove l'Europa era dieci anni fa in altri termini questo trend non ci consentirebbe mai di raggiungere il goal 4 ai vari target che stanno sotto al goal 4 quindi quello che importa non è solo capire da dove veniamo ma se l'inclinazione la velocità ammesso che andiamo nella direzione giusta ci consentirà di arrivare a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile la risposta è chiaramente no non siamo su un trend se uno va a vedere questi 17 indicatori vede che ci sono varie aree in cui le condizioni sono migliorate appunto l'obiettivo 2 3 4 5 9 12 13 14 16 ma poi uno scopre che per esempio la quantità di emissioni prodotte dall'Italia è diminuita con la crisi economica ma appena l'economia è ripartita le emissioni hanno ricominciato a crescere non solo ma crescono più dell'attività economica perché perché la siccità nel corso del 2017 fa sì che gli impianti a energia diciamo gli impianti idroelettrici non funzionano non possono funzionare come dovrebbero quindi la quota delle energie rinnovabili si sta riducendo e quindi dobbiamo bruciare più petrolio o più gas noi dipendiamo dal resto del mondo per il 92 95% per l'energia in particolare questo tipo di energia ci sono invece aree in cui peggiora decisamente la povertà l'acqua le disuguaglianze la condizione degli ecosistemi mentre per altri più o meno siamo in una condizione stabile la conclusione dunque di queste analisi è che non ci siamo né ci saremo in futuro se proseguono i trend attuali ma non basta semplicemente fare una previsione o meglio scusate una estrapolazione delle tendenze attuali bisogna capire da dove vengono le interazioni tra i diversi goal alla luce di un modello concettuale e allora per questo abbiamo usato il modello della fondazione Mattei che è un modello di equilibrio economico generale ed è un modello che consente per tutto il mondo di valutare vari scenari energetici sociali ambientali e per capire meglio alla luce dei goal che cosa ci aspetta abbiamo costruito 28 indicatori che sono rapportabili in qualche modo ai diversi goal che sono prevedibili simulabili attraverso il modello voi non avete mai visto un modello econometrico ma in estrema sintesi possiamo immaginare un modello nel quale il consumo è il reddito è la somma di consumi e investimenti fin qua ci siamo il consumo il consumo è una funzione diciamo del reddito gli investimenti sono una funzione negativa del tasso di interesse modello proprio base e allora avendo stimato sulla base dei dati effettivi dei valori dei parametri che legano consumi e reddito tassi interesse e investimenti ad esempio è possibile fare una simulazione immaginando che RT passi supponiamo dall'1% al 2% quale sarà l'effetto? che gli investimenti diminuiranno quindi il reddito diminuisce quindi i consumi diminuiscono quindi il reddito diminuisce considerando i moltiplicatori derivabili appunto da questo modellino uno ha un'idea di che cosa succede se ecco immaginate questo banale modellino moltiplicato per un modello che contiene n settori di attività economica agricoltura industria ma all'interno dell'industria tutta una serie di settori le costruzioni il terziario il settore pubblico per 45 paesi o aree geografiche e poi l'impatto sull'occupazione sui redditi sulle emissioni sul clima eccetera quindi un modello molto complesso questo modello genera tra le altre cose questi 28 indicatori da cui possiamo capire essendo collegati agli SDGs se le tendenze se le politiche che uno può immaginare miglioreranno o peggioreranno la situazione oggi questa è la classifica chiamiamola così basata basata su quei 28 indicatori alcuni sono di carattere economico altri sociali altri ambientali vedete che l'Italia è messa lì nella classifica dei principali paesi con una situazione piuttosto negativa discreta sulla parte economica discreta sulla società e per alcune aree in alcuni confronti discreta anche sul piano ambientale ma se confrontiamo la situazione italiana per esempio con quella svedese con quel grafico che vi ho fatto vedere più siamo vicini alla alla circonferenza meglio è beh è chiaro che la Svezia ci batte su tantissimi fronti questa è la situazione di oggi ma cosa può succedere in futuro? e allora abbiamo fatto delle simulazioni condotte fino al 2030 semplicemente estrapolando le tendenze attuali il cosiddetto scenario business as usual cioè uno scenario di estrapolazione di quello che è successo negli ultimi anni se simuliamo questo modello in questo modo vediamo che da qui al 2030 avremmo un leggero aumento dell'indicatore Aps di benessere complessivo ma non raggiungeremo gli SDGs non rispetteremo gli accordi di Parigi il degrado ambientale continuerebbe e avremo anche un peggioramento della situazione relativa rispetto agli altri paesi questo è questo è guardiamo questo schema verde i miglioramenti che avremmo su alcuni degli SDGs solo alcuni se se invece simulassimo una serie di politiche molto più articolate molto più complesse per esempio una politica che ci consente di rispettare gli accordi di Parigi la strategia energetica nazionale se ci fossero investimenti forti sull'occupazione femminile in particolare su la contro la inattività dei giovani se attuassimo la strategia cosiddetta industria 4.0 per l'automazione ma in generale per l'innovazione se dotassimo tutto l'Italia di della banda ultralarga dell'accesso a internet se investissimo sull'istruzione di qualità allora otterremmo dei risultati nettamente migliori in particolare li otterremmo vedete sull'SDG1 sulla povertà sulla ehm sulla governance sull'SDG7 in parte sull'otto l'occupazione e così via ma quello che emerge è che se anche facessimo queste politiche non basterebbe perché queste politiche dovrebbero essere accompagnate da interventi specifici su settori particolari l'acqua ad esempio o la qualità degli ecosistemi quelli non si rigenererebbero semplicemente perché emettiamo meno CO2 quindi al di là di politiche di sistema avremmo bisogno di immaginare anche politiche specifiche su alcuni settori in particolare il punto chiave è che queste politiche interagiscono tra di loro supponete di fare come si sta facendo in questo momento uno stimolo forte all'automazione nelle fabbriche la cosiddetta appunto politica industria 4.0 questo dovrebbe migliorare la produttività nella speranza che i robot non facciano licenziare le persone speranza totalmente insensata questo magari aumenterebbe il tasso di crescita del prodotto interno lordo ma se non si fa una riconversione energetica seria questo aumenterebbe le emissioni di CO2 che quindi avrebbero un effetto negativo su altri fronti come inquinamento e così via quindi ogni politica vedete la prima è l'accordo di Parigi secondo il modello porterebbe a un miglioramento l'SDG7 qual è l'SDG7? dovete saperli a memoria non ve l'avevo detto all'inizio no? beh ci avete ancora una settimana per imparare le memorie imparavate il 5 maggio a memoria 17 goal qual è il goal 7? come? vediamo vediamo non proprio energia energia l'energia che è molto importante naturalmente vedete l'accordo di Parigi produrrebbe una riduzione dovrebbe produrre una riduzione del settore energetico perché? beh perché dovremmo chiudere tutta una serie di centrali il governo nella strategia energetica nazionale ha annunciato l'impegno ha detto il presidente del consiglio politico di chiudere entro il 2025 tutte le centrali a carbone che vuol dire un impegno politico di un presidente del consiglio che tra tre mesi è dimissionario? traducetelo in italiano che è una buona intenzione meglio che niente in Germania neanche questo stanno facendo eh anzi loro hanno una quantità di centrali allignite che sono molto peggio delle centrali a carbone e quando la Merkel va alla COP23 dicendo noi dobbiamo assolutamente salvare il pianeta stava ancora tentando di fare l'accordo con i verdi e con i liberali non è che qualcuno che ha detto no perché noi pensiamo di chiudere le centrali allignite di carbone entro il 2025 neanche l'impegno politico è stato preso comunque sia ecco vedete quello è un effetto produce un effetto particolarmente negativo sul goal scusate ha un effetto positivo sul goal 7 ma ha un effetto negativo sul goal 11 e un effetto molto positivo sul goal 13 qual è il goal 13 qual è il goal 13 c'avete il computer davanti qual è l'effetto positivo sul goal 13 sul cambiamento climatico d'altra parte essendo la politica per il cambiamento climatico non ha effetti positivi quindi sul cambiamento climatico dovremmo spararci in testa giusto guardate invece se applicassimo la strategia energetica nazionale avrebbe un effetto negativo sul goal 1 qual è il goal 1 povertà sul goal 2 e da dove e da dove verrebbe quell'effetto negativo dal goal 8 che è occupazione eccetera perché produrrebbe disoccupazione e quindi più povertà eccetera e la stessa cosa avverrebbe dagli altri lati guardate l'industria 4.0 la banda larga nel modello quell'investimento aumenta la 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 produttività quindi farebbe aumentare il pil tant'è vero che guardate il goal 1 quello sulla povertà avrebbe molto bene perché perché il goal 8 guardate cosa gli fa grande boost sulla produttività peccato che se fatta da sola ci farebbe emettere un sacco di energia di CO2 e quindi qual è la conclusione che se noi attuassimo tutte queste politiche insieme avremo effetti positivi su gran parte dei goal ma negativi sul cambiamento climatico e che cosa ci insegna dunque questo esercizio di simulazione dai dillo a voce alta invece che a voce bassa qualche altro commento? cosa ci insegna? forza forza ragazzi ma sono il primo professore che vi chiede di intervenire durante la lezione oppure perché la facciamo ai pomeriggio siete schiantati forza l'avete davanti agli occhi sì ma dal punto di vista delle politiche che non sono sufficienti ma che è meglio che è meglio farle insieme perché la contemporaneità delle politiche fa la differenza perché se tu stimoli l'economia e non fai nel frattempo la riconversione energetica è chiaro che hai una serie di costi elevati ma se nel frattempo la fai riduci i costi quindi il tema vero è quello di trovare cercare di trovare la combinazione ottimale delle politiche in maniera tale da ottenere risultati sui diversi goal cambiando i come si dice i trade off cioè le alternative cambiando cioè le relazioni tra i miglioramenti e i peggioramenti cambiando i parametri di fondo del funzionamento del sistema economico e sociale questo ci dice questo modello questa simulazione che poi è esattamente quello per cui la politica dovrebbe essere immaginata cioè è la ragione per la quale è il presidente del consiglio a fare il coordinamento delle politiche per evitare da un lato che eccessi di incentivi senza aver costruito le centraline fanno sì che appunto il 30% come in Norvegia delle macchine siano elettriche ma non sai dove ricaricarle perché se non fai le cose coordinate c'hai un sacco di problemi immaginate quelli che si sono comprati le macchine elettriche pagando ben di più e poi non sanno dove ricaricarle voi sareste arrabbiati? e giustamente ve la prendereste con chi non ha fatto una programmazione degna di questo nome ecco che cosa ci insegna questo modello questa simulazione questo esercizio che è vero è molto complicato il quadro degli SDGs dell'Agenda 2030 è molto complesso tutto interrelato ma non è impossibile provare a gestirlo prego no perché per fare il miglior scenario bisogna fare un esercizio cosiddetto di backcasting cioè qui è dove sono io oggi qui è dove voglio arrivare e io a ritroso ricostruisco le traiettorie che dovrei seguire e capirei quali sono i parametri cruciali che io devo cambiare per assicurarmi di arrivare là quindi ragiono all'indietro certo che si può fare non l'abbiamo ancora fatto perché questo modello ha bisogno di essere ulteriormente sofisticato e analizzato prima di poter fare questo esercizio il punto però cruciale arrivo subito è che non siamo soli questo modello come dicevo contiene anche tutto il resto del mondo e quindi gli impatti sull'Italia dipendono anche da quello che succede negli altri paesi e viceversa e questo è un passaggio culturale molto difficile ci torniamo tra un attimo dimmi volevi dire no è il contrario allora se io parto da qua e strapo il modello e arrivo qua questa è l'ipotesi business as usual no? poi io sono sempre qua e faccio una serie di politiche come quelle che abbiamo simulato noi e arrivo qua non basta ho bisogno di partire da qua e ricostruire all'indietro cambiando però i parametri ma cercando di capire quali sono i parametri che mi consentono di spostarmi su una traiettoria invece che questa e quindi incidere su quei parametri cercare di capire come fare delle politiche su quei parametri cruciali che se non cambio anche se faccio delle cose più giuste di quelle che farei semplicemente estrapolando non mi basta neanche tutto questo ci dice che il passaggio da qui al 2030 degli SDGs è terribilmente difficile e prima cominci meglio è parlando politicamente a me poi sembra che il nodo sia il nodo secondo me se portiamo l'ospettiva del 2030 l'unico modo per raggiungere determinati obiettivi è realmente se c'è una continuità politica che consente di iniziare alcune di queste azioni e portarle avanti e ad esempio secondo me è anche da certi punto di vista comprensibile un po' il traviere nulla di fatto il presidente del Consiglio in questo momento anche perché come fai probabilmente sbagli visto quindi visto che non si potrà avere una continuità politica da adesso in 2030 non è che l'unico modo reale è passare tutto all'Europa dando le competenze all'Europa alla fine realmente è quello l'unico strumento che i paesi hanno perché se ogni paese porta avanti una linea e poi in quella direzione alla fine non è detto che la somma dei pezzi vadano perché l'Europa dovrebbe riuscirci? un'Europa chiaramente che avrebbe come abbiamo visto prima ma che ha più potere perché un'Europa che avesse più potere dovrebbe riuscirci? perché probabilmente avrebbe quegli strumenti di coordinazione ma chi decide le cose oggi in Europa? i paesi in questo momento cioè il Consiglio no, aspetta, aspetta no, no le cose in Europa vengono decise fondamentalmente dai paesi hai ragione tu perché l'organo deliberante è il Consiglio è come se in Italia fosse il governo a fare le leggi mentre sappiamo che nella divisione dei poteri è il Parlamento che fa le leggi nel meccanismo europeo di fatto c'è un po' di co-decisione ma via i cellulari grazie mille sarebbe veramente favoloso no eh? dicevo c'è una procedura di co-decisione ma di fatto sono il Consiglio che prende la decisione quindi i paesi che sono soggetti a democrazia e quindi cambiano tu stai invocando un'altra cosa e quindi stai dicendo è la Commissione che dovrebbe decidere perché la Commissione può avere questo elemento di lungo termine cioè stai dicendo che è solo se si raggiunge una qualche forma di federazione politica no stai dicendo un'altra cosa stai dicendo che la democrazia non è il sistema corretto per farci arrivare laggiù non è il sistema corretto non è il sistema corretto beh stai dicendo che bisogna affidare invece che ai cicli nazionali politici all'Europa che ai cicli politici nazionali a meno che affidarlo all'Europa voglia dire in realtà affidarlo a un soggetto che non è condizionato dai cicli elettorali cioè un soggetto che è tecnocratico e non è democratico cioè la soluzione cinese c'è forse già ve l'ho raccontato una società americana che negli anni scorsi ha detto noi creeremo la prima colonia su Marte ve l'ho già raccontato? no? qualcuno forse se lo ricorda gli altri erano disattenti e ha cominciato a dire volete far parte della prossima colonia su Marte? dateci 200 dollari intanto e l'ho raccolto qualcosa come 2 milioni di dollari 20 milioni di dollari insomma un bel po' di soldi perché dicono noi riusciremo a mettere insieme un sistema per portare la prima colonia su Marte portarla non riportarla indietro però ci può essere tanta gente che ha intenzione di andare di fondare una nuova terra non è che i padri pellegrini quando sono andati in in America avevano l'intenzione di tornare indietro no? e hanno dunque cominciato a studiare come dovrebbe funzionare questa nuova colonia su Marte e hanno concluso che il sistema democratico non è adatto a gestire una colonia su Marte perché? perché lì non c'è l'atmosfera quindi questa colonia dovrebbe stare sotto a una grande bolla a una grande cupola con dei macchinari per produrre ossigeno e quindi non potendo correre il rischio che qualcuno matto prendesse e mettesse una bomba sul macchinario per produrre l'ossigeno l'unico modo per gestire una condizione come quella sarebbe un sistema di governo autoritario sei d'accordo? se secondo me si se non si si e quindi quello metterebbe la bomba sulla macchina che produce l'ossigeno e quindi e la terra? ma il nostro non ci potrebbe essere anche un sistema autoritario? certo certo ma la terra non è una bolla? cioè quando uno dei presidenti eletto democraticamente dice a me non interessa niente io sono pronto a inquinare e faccio è tollerabile un comportamento del genere quando così facendo per ipotesi eh adesso stiamo quello portasse l'intero mondo alla distruzione? guarda che la tua domanda è tutt'altro del peregrina la tua domanda non portava in questa direzione ma di fatto la soluzione che tu immaginavi presuppone una scelta tecnocratica non democratica perché se democraticamente vogliamo schiantarci in nome della democrazia perché dovremmo vietare un paese di schiantarsi? stiamo arrivando a domande filosofiche molto molto difficile come? quindi invece se lo fa il bozzuana o il burundi o quello che sia si sa che c'è quindi per i grandi paesi ci vuole un regime dittatoriale eh ma alla fine che potrebbero nominare un Trump europeo un Trump europeo però già sarebbe più probabile un scenario di questo tipo piuttosto che diciamo la marcia lingua di molti paesi no? allora la tua risposta la tua domanda è una domanda seria e la risposta è molto semplice come ho detto prima la divisione la divisione dei compiti tra i paesi e l'unione non è stata pensata per un mondo così il frutto di decenni di pensiero diverso il pensiero come ho fatto vedere la prima volta che la crescita economica avrebbe risolto tutti i problemi ma anche se noi portassimo a livello europeo una serie di decisioni importanti e io sono convinto che questo servirebbe non basta perché l'Europa non è il mondo e quindi quando l'altro giorno qualche settimana fa il leader cinese Xi Jinping nel suo torrenziale speech discorso al partito popolare cinese sulla prospettiva dei prossimi cinque anni per la prima volta nella storia della Cina nomina la parola ambiente più spesso della parola economia questo è un segnale forte anche perché loro hanno milioni di morti per inquinamento non sessantamila come in Italia che già un numero a me sembra folle così come mezzo milione all'anno di morti per inquinamento per malattie legate all'inquinamento in Europa è un numero folle mezzo milione all'anno dati dell'Agenzia europea dell'ambiente non miei dicevo che se anche l'Europa facesse tutta una serie di passi nella giusta direzione il tema della capacità della continuità di mantenere la continuità che serve per realizzare una cosa del genere sarebbe esattamente lo stesso e questo è certamente un tema di grande grande difficoltà nel suo ultimo libro pubblicato in Italia dopo che lui era morto dalla terza retrotopia di Zimun Bauman Bauman fa una considerazione da sociologo straordinariamente interessante a mio parere che a me ha colpito molto tutto tutta la storia di evoluzione dell'umanità ha implicato un allargamento del concetto di noi quando eravamo nelle grotte i gruppi erano piccoli il noi era piccolo il non noi era enorme quando gli umani hanno cominciato a diventare agricoltori e quindi a uscire dalle grotte per coltivare la terra il noi si è allargato ma il non noi restava ugualmente enorme poi abbiamo costruito le città e non a caso le abbiamo fortificate per definire chi era il noi quelli dentro le mura e gli altri erano fuori poi abbiamo creato gli stati che hanno definito un noi più allargato rispetto alle città ma comunque un noi rispetto ad altri poi abbiamo creato degli organismi sovranazionali come ad esempio l'Unione Europea ma c'è ancora qualcuno che è non noi il salto che l'umanità in questo momento dovrebbe fare e che stenta a fare è quello di riconoscersi che il noi riconoscere che il noi siamo tutti noi e nessuno al di fuori la globalizzazione in teoria questo è l'accettare che siamo in una sfera e che quindi il tuo comportamento inquinante mi danneggia le tue scelte mi interessano perché siamo tutti nella stessa barca nella stessa sullo stesso pianeta è il salto che non riusciamo a fare e non riuscendo a fare le soluzioni sono quelle di ricreare i muri e di definire un noi magari più ampio ma che lascia fuori qualcuno questo questa è la difficoltà secondo Bauman che abbiamo di fronte sul piano culturale sul piano individuale se a tutto questo aggiungete la velocità folle con cui questo processo sta avvenendo è chiaro che siamo tutti inadatti siamo tutti incapaci di concepire una cosa del genere magari c'è chi è più adatto a concepirlo chi è più disponibile a concepirlo magari perché nei vari allargamenti che si sono succeduti non ha pagato un prezzo così elevato un altro giorno qualcuno di voi è andato a questa manifestazione economia come? all'auditorium sono stati tre giorni di seminari di battiti aperti al pubblico gratuiti in cui economisti e altre persone hanno discusso di questi aspetti c'era Riccardo Stagliano che ha scritto un libro sull'automazione in cui ha fatto vedere lo disegno a vostro favore l'andamento dell'occupazione manifatturiera negli Stati Uniti che fa più o meno così poi fa così poi fa così e poi fa così il primo balzo in giù il primo crollo è intorno al 2001 2002 qualcuno sa cosa è accaduto in quegli anni parliamo della manifattura la dichiarazione della Cina come paese parte degli accordi di commercio internazionale cioè l'abbattimento delle barriere nei confronti delle esportazioni cinesi che a quel punto hanno naturalmente invaso l'occidente quando la globalizzazione è stata immaginata si immaginava che il mondo emergente o in via di sviluppo ci avrebbe messo decenni per diventare in grado di produrre i prodotti che interessavano gli occidentali e quindi l'idea era ok allarghiamo il mercato anche per salvare il capitalismo che altrimenti già si stava incartando stava implodendo compreremo da loro merci vestiti a basso costo da mercatino o altre materie prime o cibo eccetera a buon mercato ma noi gli venderemo le macchine i computer i telefoni le cose che hanno un valore aggiunto molto alto peccato che non avevamo considerato la rivoluzione tecnologica che forse qualcuno stava considerando i cinesi gli indiani e altri un po' sottosviluppati anche nel cervello e invece invece loro hanno fatto un salto incredibile e quindi noi oggi compriamo cellulari i telefoni i computer eccetera oltre che tante altre macchine dai paesi emergenti e poi i servizi li compriamo lì cioè il cambiamento è stato così rapido che non c'è stato il tempo di aggiustarsi come invece era stato immaginato inizialmente e quello che adesso ci sta chiedendo diciamo così questa agenda è di fare il salto ulteriore culturale in cui siamo tutti nella stessa barca questa è la difficoltà profonda della politica ed è la difficoltà che ha a che fare non solo con la cultura ma anche con l'esperienza delle persone a quegli americani che hanno preso la prima botta poi così e la seconda botta adesso l'hanno presa con l'automazione vaglielo a dire vagli a parlare degli SDGs quelli hanno perso il lavoro ma non solo negli Stati Uniti anche in Europa anche in Italia e sono persone che non sono in grado di riciclarsi quelle decine di migliaia centinaia di migliaia di guidatori di autotreni i cui posti di lavoro sono a rischio perché gli autotreni automatici non è che quelli vanno a fare i programmatori di computer perché tipicamente non hanno neanche il liceo scordiamocelo ma talvolta neanche la terza media che è la stessa cosa in Italia insomma non è banale e la domanda vera è se le istituzioni politiche sono in grado di gestire un mondo così complesso due anni fa quasi in un evento su queste tematiche chiuso quindi eravamo tutti insomma non c'era la stampa una cinquantina di persone qui a Roma capitò a cena di parlare con una professoressa cinese che insegna la London School of Economics ma giovane molto giovane ma credo figlia di un importante funzionario cinese e allora lei ci diceva di quanto la Cina sia in difficoltà nella transizione anzi le tre transizioni che la Cina deve fare la transizione demografica sapete che per decenni hanno fatto la politica del figlio unico quindi stanno invecchiando rapidissimamente perché non ci sono state le emissioni delle nuove generazioni tra l'altro hanno un squilibrio micidiale tra maschi e femmine perché le bambine venivano uccise quindi hanno un rapporto tra maschi e femmine che storicamente in tutta la storia dell'umanità ha sempre determinato una guerra una guerra il ratto delle sabine in cui i romani vanno e rapiscono le ragazze dalla sabina era legata esattamente allo stesso squilibrio demografico che c'è in Cina cioè i romani erano tutti maschi e non ci avevano donne non proprio ma insomma c'era uno squilibrio e se le dovettero andare a rubare in sabina questo è quello che impariamo nei libri di storia bene la prima transizione è quella demografica la seconda transizione diceva lei è quella da un'economia dominata dagli investimenti trainata dagli investimenti e dalle esportazioni a un'economia trainata dai consumi e poi un'economia manifatturiera che deve diventare un'economia terziaria di servizi e diceva le nostre strutture politiche non sono in grado di gestire questa transizione in modo efficiente la nostra democrazia diceva non è in grado di farlo e quindi ci stiamo domandando cosa dobbiamo fare adottare la vostra ma non ci pensiamo neanche lontanamente quindi stiamo pensando a una nuova forma di democrazia e poi abbiamo un problema drammatico di corruzione fin giù a livello educativo dico cioè che se non fai il regalo al professore o la professoressa di tuo figlio o di tua figlia tuo figlio o tua figlia vanno male quindi ci stiamo domandando se abbiamo sbagliato a eliminare la religione e quindi ci stiamo domandando se non dovremmo per lottare la corruzione reintrodurre la religione e naturalmente ci stiamo domandando quale religione reintrodurre allora voi capite che se c'è un pezzo di fatto da un miliardo e trecentomila persone del mondo che si pone queste domande noi ma proprio non abbiamo capito dove stiamo non a caso la Cina da decenni ormai sta comprando terre in tutto il mondo soprattutto in Africa ma non solo cioè la capacità di programmazione a lungo termine è un elemento distintivo dei soggetti che vincono la competizione se sono dieci anni che stanno investendo nelle batterie elettriche per le auto e noi ancora no e il mondo sta per fare quel salto abbiamo un problema molto serio quindi ma lì non c'è democrazia come la intendiamo noi naturalmente quindi è quello il futuro? è una domanda che molti si stanno facendo è attenzione perché quello che vedete in giro la richiesta dell'uomo forte al comando è esattamente quella risposta come dicevamo oggi pranzo con qualcuno quando qualcuno dice Singapore il lavoro ottimo certo è un po' piccolino insomma qualche milione di abitanti ma lì le cose funzionano attenzione quello è uno stato fascista in cui c'è un controllo totale della popolazione e funziona benissimo quando qualcuno dice eh ma all'epoca quando c'era lui i treni andavano in orario no? queste storie che ogni tanto escono lasciate stare se era vero o meno la domanda di qualcuno al comando che non sia obbligato a tutta la trafila democratica di confronto con la società l'abbiamo sentita fino a un anno fa teorizzata dal presidente del consiglio dell'epoca ripeto sto estremizzando ma manco tanto perché questa agenda pone un enorme problema di governance e quindi ci sono due modi uno è quello di costruire delle istituzioni democratiche che complesse che si scontrano con questi problemi e cercano disperatamente di venirne a capo convincendo come voi avete detto i cittadini che quella è la strada da prendere certo i cittadini devono essere coscienti dei problemi delle soluzioni eccetera eccetera e ci sono altre soluzioni che vanno per la maggiore in questo momento e noi che ci stiamo avvicinando alle elezioni ci dovremmo domandare ma su che base sceglieremo sulla base di forze politiche che si pongono i problemi in un certo modo in un altro che hanno uno sguardo di breve di lungo queste sono le grandi domande che abbiamo ma per venire a una possibile risposta democratica della tua domanda posso dire che noi abbiamo proposto nel rapporto una serie di azioni che andavano fatte il rapporto è stato pubblicato a settembre in questi mesi ma abbiamo anche detto la prossima legislatura deve essere la legislatura dello sviluppo sostenibile e come si fa dopo tutto quello che avete ascoltato in un regime democratico a far sì che il concetto di sviluppo sostenibile sia comune a tutti al di là dell'educazione al di là del come si fa? tramite i media da dove comincereste voi? per essere sicuri che tutte le decisioni future vengano prese secondo questo principio magari dalla costituzione dalla costituzione dalla costituzione perché se voi doveste cominciare ex novo un paese un paese innamorato magari dello sviluppo sostenibile questo principio lo scrivereste nella costituzione i nostri giuristi hanno provato a scrivere gli articoli che dovrebbero entrare nella costituzione io sono molto contento che dei parlamentari hanno presentato una proposta di legge costituzionale per inserire questo in costituzione l'ha fatto la Francia l'ha fatto la Svizzera l'ha fatto la Norvegia l'hanno fatto altri paesi in giro per il mondo perché noi no? Chiaro non verrà certo adottata nei prossimi mesi non c'è tempo ma intanto ci stiamo cominciando a porre il problema di cambiare le regole cosa quante leggi sarebbero state dichiarate incostituzionale negli ultimi 60 anni se questo principio fosse stato presente nella costituzione del 47? tante e forse voi giovani non vi trovereste nei problemi in cui siete perché non si sarebbe potuto caricare le generazioni future di una serie di costi perché le generazioni future avrebbero potuto implicitamente andare dalla Corte Costituzionale e dire questo non rispetta la Costituzione così si cambiano le cose democraticamente con grande fatica e poi si possono indicare le cose da fare al Parlamento per esempio il Parlamento avrebbe potuto potrebbe ancora adottare da qui alla fine della legislatura una legge per queste sono tutte leggi già passate in uno dei rami del Parlamento la legge sul consumo di suolo la legge sui principi nella gestione pubblica delle acque la legge sulle aree protette la legge per la protezione per la promozione del commercio eco e solidale quelle strategie di cui vi ho parlato si potrebbe trasformare il comitato interministeriale per la programmazione economica come ho detto c'è una proposta di emendamento alla legge di bilancio bisognerebbe andare a vedere i comitati interministeriali che esistono come sono responsabili dei vari temi dell'agenda 2030 bisognerebbe coinvolgere le regioni le città in questo sforzo vi pare possibile che in italia abbiamo una legge per una strategia nazionale sulle aree interne cioè quelle più sfigate direbbe qualcuno nell'interno della nostra penisola e non abbiamo una strategia nazionale per le città come se le città fossero un problema dei sindaci e poi ci stupiamo che solo Milano ha deciso di mettere al bando le automobili nel 2030 quindi si potrebbe ricostituire il comitato interministeriale per le politiche urbane dandogli un forte mandato si potrebbe spingere tutte le amministrazioni pubbliche a essere efficienti sul piano energetico ci crederete o meno non c'è nessuna direttiva che dice alle amministrazioni pubbliche che devono essere verdi ci stiamo lavorando adesso col ministero della pubblica amministrazione insomma sembra di essere all'anno zero naturalmente non si è all'anno zero si possono fare un sacco di cose già da oggi e poi nel frattempo si possono appunto cambiare la costituzione si possono coinvolgere i media si può parlare con i leader politici insomma si può fare quello che in una democrazia si dovrebbe fare e cioè cambiare le cose dal basso bene questo è lo schema che avete già visto ed è lo schema che appunto lega gli obiettivi di sviluppo sostenibile a una visione di come funziona il mondo di come funziona l'economia ma anche di come funziona la società di come funziona l'ambiente di come funzionano le istituzioni avrete dunque capito che cambiare tutto questo richiede uno sforzo enorme ed è uno sforzo molto molto faticoso la domanda naturalmente è per ognuno di noi a cosa siamo pronti a rinunciare per cambiare magari prendendosi anche il rischio di essere considerati un po' Cassandre pur di arrivare alle migliaia sono sicuro di amici che voi avete su Facebook se solo su Massimo tutti i vostri amici o su Instagram o su quello che volete a voi decidere se volete essere dei spettatori o se volete essere degli agenti del cambiamento scoprendo che ci sono altri modi di pensare rispetto a quelli che state imparando adesso qui e ci sono gli altri modi di pensare anche rispetto a quello che io vi sto raccontando insomma se volete essere cittadini consapevoli attivi per costruire un futuro diverso visto che quello attuale non ci piace e non ci sta portando da nessuna parte naturalmente potete anche fare un'altra scelta quella di pensare di potervi salvare come con l'amministratore delegato che aveva negoziato due anni fa un meccanismo di bonus che se fosse stato licenziato prima dei cinque anni del suo contratto invece di prendere 50 milioni di euro che era più o meno il bonus su cinque anni ci sarebbe stata se fosse andato via dopo un anno per esempio il calcolo dei risultati ottenuti nel primo anno e poi sarebbero stati estrapolati per cinque così che lui avrebbe preso un bonus di uscita come se fosse stato lì cinque anni i revisori dei conti bocciarono questa proposta ma il consiglio decise di adottare questo schema quell'impresa si chiama TIM è stata presa da una nuova proprietà o quasi si discute molto di questo e questo amministratore delegato è stato mandato via dopo un anno e mezzo e con uno schema di questo tipo vi assicuro che di questi problemi questi problemi non lo toccano perché lui il futuro l'ha preso si è fatto un'assicurazione importante per il futuro e questo è quello che succede in tantissime imprese ma anche nella politica ma anche nei soggetti predatori magari che sanno benissimo che le difficoltà stanno arrivando e quindi accaparrano il più possibile pensando poi di trovare un luogo dove evitare di scontrarsi con questi problemi questa è un'alternativa possibile ed è l'alternativa di chi vi insegna anche qui all'università che il compito delle imprese è massimizzare il profitto e anzi il profitto di breve termine spero che nessuno vi insegni questo perché la teoria economica non dice questo è la traduzione della nuova teoria economica che viene insegnata che viene praticata negli ultimi 30 anni se io vi dicessi che c'era un paese al mondo dove all'inizio del 1980 l'aliquota marginale per le successioni quindi io muoio lascio 100 ai miei figli se questo 100 era tanto cioè l'aliquota marginale elevata era del 95% quindi il 95% nella parte alta della distribuzione veniva sostanzialmente confiscato da quello Stato l'aliquota sui guadagni in conto capitale l'aliquota l'aliquota marginale era del 95% qualcuno ha idea di che paese io stia parlando no gli Stati Uniti d'America l'Inghilterra questa era la politica fiscale prima di Reagan e Thatcher non a caso se andate negli Stati Uniti o Inghilterra trovate i padiglioni delle università degli ospedali con i nomi delle persone perché perché piuttosto che lasciarli al fisco li rimettevano in circolo con il loro nome perché la logica era tu durante la tua vita hai guadagnato i tuoi soldi goditeli ma se li accumuli e non li rimetti in circolo perché i tuoi figli che non hanno nessun merito di essere nati nella tua famiglia devono goderne invece devono alzare il sederino e rimettersi a lavorare pesantemente questa era la logica fino ai primi anni 80 e il cambio di logica la rivoluzione neoliberista non nasce perché qualcuno improvvisamente ha deciso di votare Reagan o Thatcher ma perché per dieci anni dopo una riunione di persone molto importanti sul Mont Pellegrin negli Stati Uniti queste persone molto importanti decisero di investire milioni e milioni per aprire centri di ricerca che promuovevano la visione liberista aprire cattedre nelle università per chiamare persone che la pensavano così finanziare campagne elettorali e così via perché il cambio di paradigma si fa seriamente non perché un professore viene a raccontarvi queste cose improvvisamente il mondo cambia quindi non bisogna essere naif i cambiamenti nella storia ci sono anche positivi anche negativi ma vanno preparati non è che qualcuno pesca un jolly e le cose cambiano questo ve lo dico perché stiamo parlando di una sfida enorme che richiede veramente il contributo di tutti